Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito, come sempre dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara, il titolo di apertura eccolo qui, lo possiamo leggere insieme, legato e minacciato per i debiti, rancitelli senza pace, tre rom arrestati per estorsione. Andiamo a vedere le altre notizie, nel taglio alto la tragedia di Milano, adolescente si uccide per un gioco sul web e allarme tra i genitori. E poi ancora la politica con la visita della Meloni, leader di Fratelli d'Italia in Abruzzo, al voto in Abruzzo entro l'anno, chiede la Meloni e poi, scusate, per il caro pedaggi, i sindaci occuperemo i caselli autostradali. Andiamo avanti con le altre notizie. Nelle cronache, scusate, Pescara, distretto dell'Asla, lavori sbloccati dopo vent'anni per realizzare il nuovo distretto sanitario di Pescara Sud ieri mattina, lo ha annunciato il direttore generale Armando Mancini. A Montesilvano il Colle, progetto per rilanciare il centro storico. E poi ancora incontro in redazione per quanto riguarda il Pescara, Macin, porto il Pescara in alto e sogno la Liga. Ancora donna si ustiona con la lampada solare a Lanciano, danni permanenti al 10% del corpo, titolare del centro estetico, va a processo. E poi nella fotografia di centropagina, la società Luigi Barbara, teatro che stagione, i miti del palcoscenico a Pescara, Sere Nautieri, Isa Danieli, Lina Sastri e Leo Gullotta, alcuni dei nomi nel calendario della stagione teatrale. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo I soliti gnoti del Gratta e Vinci Rubbati. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, sempre le prime pagine, questa è l'edizione teatina in apertura, arrestato con un pacco di soldi falsi. Nell'armadio 2880 Euro da spendere nei negozi di Chieti e Francavilla. E poi nello spazio delle cronache, Lanciano, assistenti sociali prese a pugni in comune, calci e pugni alle assistenti sociali responsabili, secondo lui, dell'allontanamento da casa delle figlie minorenni, due bambine di 8 e 9 anni che hanno assistito alla cieca violenza del padre. E poi avvasto in aumento le separazioni in municipio. E ancora Casal Bordino, troppa polvere, la squadra cambia campo. A Chieti i funerali dell'amico di tutti, canzoni e bandiere in 500 danno l'addio a Cipolla. Qui vedete la foto del feretro portato a spalla tra la folla con le bandiere. Andiamo avanti ancora nella edizione terramana. Adesso il titolo di apertura. Eccolo qui, due ventenni arrestati per rapina. Sono di Roseto e Pineto, avevano rubato la catenina ad un ragazzo. Nelle cronache, il Mazzini di Teramo, 4 milioni per rinnovare l'ospedale. In corso, lavori per ristrutturare e spostare alcuni reparti. Presto saranno sostituiti i vecchi ascensori nell'atrio e ne sarà installato uno panoramico nella tromba delle scale. Ancora ad Atri, l'ASL dice no all'ampliamento della discarica. E poi, negli spettacoli, il volo film musicale in stile anni 60. A centro pagina, invece, la vertenza dell'Ipersimpli. Il supermercato Teramano, la proprietà insiste, l'Ipersimpli sarà chiuso. Ieri, viaggio della speranza in Regione, però ci sono poche possibilità per i lavoratori dell'Ipersimpli. Teramano, andiamo ancora avanti. L'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro è quella dell'Aquilano. In apertura, bollette, altra stangata in arrivo. All'Aquila, timori per il progetto case map, De Santis dell'IDV lancia l'allarme. Poi, nelle cronache, Avezzano, rivoluzione anti-ingorghi in centro. Cambia il senso di marcia in via Diaz e su un tratto di via Corradini. L'operazione messa in cantiere dall'amministrazione De Angelis punta a superare le lunghe file e gli ingorghi. Ancora l'Avezzano finanza Blitz per gli incarichi a Natalia e poi Sulmona presa la ladra in cubo dei negozianti. Andiamo a vedere la notizia di centropagina. Calcio, l'imprenditore sulmonese in Lizza per il voto del 22 ottobre. Gravina in prima fila per la presidenza della Feder Calcio. Gravina, attuale presidente della Lega Pro, sarà appunto uno dei principali candidati alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo a vedere adesso un'altra testata. Il messaggero, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano apre così, Regione e gli uffici sono off limits. Palazzo non idoneo per il rischio sismico, chiude la storica sede di via Bovio. Deciso il trasloco in via Catullo, ma sui nuovi locali spunta l'incognita delle certificazioni. Dunque il palazzo di fine anni 60, nato come civile abitazione adattato alle esigenze della regione, non presenta, leggiamo dall'articolo, garanzie di resistenza sismica richieste per gli edifici pubblici gravati da maggior carico antropico e quindi si è deciso per il trasloco. Andiamo a vedere ancora sul messaggero le altre notizie, il MEF al falso invalido di guerra, devi restituire 700 mila Euro. L'Aquila, l'anziano ufficialmente quasi cieco, ma guidava un mezzo agricolo a tradirlo. Prima un cd fatto recapitare anonimamente in cui veniva ritratto su un mezzo agricolo di sua proprietà, poi dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale dell'Aquila, mentre tagliava l'erba del giardino di casa e camminava per il centro storico dell'Aquila. Poi Paola, sparita da casa, era morta in un canale, è stata trovata in un canale Paola Dovidio, la 45enne pescarese residente in Piemonte, scomparsa da Pescara. Andiamo a vedere poi la fotonotizia Lanciano, padre furioso in comune, botte alle assistenti sociali che sono finite in ospedale. aggredite picchiate da un uomo a cui sono state tolte le figlie. Nella spalla del giornale troviamo il caso Autostade, 90 sindaci contro il caro Pedaggi, pronta la manifestazione in programma il 19 settembre, si allarga il fronte della protesta che prevede un corteo, come detto a Roma. Nel taglio basso invece a Pescara, paga la coca o ti spariamo. Prima si rendevano disponibili a cedere la droga a credito, poi pretendevano il saldo del debito con l'aggiunta di interessi da capogiro e se qualcuno per caso faceva storia o ritardava nei pagamenti erano guai seri. In una circostanza hanno addirittura legato ad una serie un giovane tossicodipendente che non riusciva a saldare il suo debito minacciandolo di morte con una pistola puntata alla tempia. Sono scattati tre arresti in un blitz dei carabinieri. Nel taglio alto le altre notizie. L'Aquila, la ricostruzione sta rallentando, la CGL lancia il grido d'allarme, poi Megamarket, chiusure festive a sorpresi, dipendenti sono favorevoli. Per quanto riguarda invece la serie B ed il Pescara verso Brescia, primo esame di maturità, Mr. Pillon, rondinelle da primi tre posti, bisogna fare attenzione, Memu Shai rigenerato dalla Nazionale a Rigamonti, il genio di Macin. Andiamo adesso a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura il caso Ipersimpli, speranze ridotte a zero. Il gruppo SMA conferma la volontà di chiudere durante il tavolo istituzionale in regione Abruzzo. Andiamo a vedere anche la notizia di centropagina nella fotografia il Vescovo Leuzzi. Stasera la presentazione della prima lettura di Leuzzi, la pastorale del Vescovo del Fare. Sacerdoti intanto ingegneri per la ricostruzione, per accelerare le pratiche delle 180 chiese danneggiate. Di spalla troviamo le elezioni regionali, dunque la politica, ha sondaggiato anche Gatti per la presidenza della regione e poi in maniera speculare il PD di Sabatino, detta le regole al PD in vista delle elezioni di Sabatino che ha la reggenza del partito dopo le dimissioni del segretario Rapino. Ancora le altre notizie, arrestati due giovani. Se parli ti mandiamo sulla sedia a rotelle. Il caso è accaduto a Roseto, a Giulianova, a processo per spaccio ed estorsione. E poi Corropoli, efficientamento veloce, anche senza paride. E poi ancora il calcio con il Teramo, Capitan Speranza, girone complicato, ma siamo pronti alla partenza del campionato. Nel taglio alto le altre notizie, anche l'Asl contraria all'ampiamento della discarica di Santa Lucia, per il calopedaggio, abbiamo già visto i sindaci pronti ad occupare i caselli, e poi per il nuovo ospedale di Teramo, d'Alberto, ribadisce i suoi dubbi, così il primo cittadino. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura il titolo, eccolo qui, scontro tra Europa e Italia. Andiamo a vedere perché, politica ed economia, Draghi invita i ministri alla cautela, le parole, ha detto il presidente della BCE, hanno creato danni agli italiani. Intanto Moscovici attacca, vedo dei piccoli Mussolini, Salvini e Di Maio, frasi inaccettabili. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, come muoversi Libia, Unione Europea e interesse nazionale. Poi il caso delle dimissioni in Consob. Nava lascia la Consob non gradito alla politica. Lega e 5 Stelle dicono, è una nostra vittoria. Così Mario Nava lascia la guida della Consob, che è l'autorità che vigila sulla regolarità dei mercati in Italia. E poi andiamo a vedere le altre notizie. Chiaramente oggi è l'anniversario del crollo del ponte Morandi. Genova via al decreto. Il ponte resta un rebus. Un mese dopo l'ora del ricordo e lite sul commissario. A centropagina nella fotografia il libro Paura. 750 mila copie in 24 ore in Italia con Solferino. Woodward, l'anti-Trump che conquista l'America. Andiamo su Repubblica adesso. Il caso scontro tra Draghi e il governo. Draghi, danni da parole del governo. La Consob, Nava lascia. Il Movimento 5 Stelle esulta. Mi dimetto, i partiti non ci fanno lavorare. Moscovi sì, l'Italia è il problema dell'Europa. L'analisi che troviamo sulla prima pagina perché la BCE non può cedere al ricatto. È l'articolo di Ferdinando Giuliano. E poi ancora il caso se una rete si schiera a difesa di Tria. Nell'articolo di Claudio Tito sulle indiscrezioni che vorrebbero ancora l'ennesimo scontro sul reddito di cittadinanza tra il Ministero dell'Economia e quindi il Ministro Tria e il Vice Premier Di Maio e dunque il Movimento 5 Stelle. Poi il caso migranti avvistati sette gommoni. Salvini non sbarcheranno e gela Berlino sull'accordo nuova tensione con Malta. Mentre nel taglio alto vedete la foto con quel che resta del Ponte Morandi. Genova un mese dopo la politica non decide. Un inserto di otto pagine oggi sulla Repubblica. L'esecutivo diviso. Vara un decreto vuoto. Questo è il giudizio di Repubblica. Andiamo sul fatto quotidiano. Centro pagina la notizia principale per B. La pacchia è finita vista per Perlusconi. Vito Crimi. Il sottosegretario dell'economia annuncia al fatto le mosse su TV e giornali. Tetti agli spot in TV e pubblicità alla carta ma basta soldi pubblici. Andiamo nel taglio alto. Il caso Consob. Nava l'incompatibile lascia e fa la vittima. Era in distacco dall'Unione Europea. Non poteva restare lì. Poi ancora i sei della Farus IPM. Qui i soldi sospetti. lega le dichiarazioni dei trader della società lussemburghese. Anche sul fatto quotidiano in prima pagina troviamo l'anniversario del crollo del Ponte Morandi. Un mese dopo città divisa come Berlino e il Ponte di Genova. Il decreto c'è, ma il commissario ancora no. Intanto nuovi guai per i benettoni. Tiranti rotti già nel 2011. Sulla stampa la prima pagina è tutta dedicata a Genova. Dalla parte di Genova, un mese dal crollo del Ponte Morandi, la città aspetta ancora il commissario e gli sfollati chiedono di rientrare in casa. Con questa foto suggestiva in prima pagina poi gli articoli a commento. Una tragedia inaccettabile. L'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi dal dolore al riscatto. Il commento di Maurizio Molinari che trovate sulla stampa. Andiamo adesso sul manifesto. Il quotidiano comunista, come sempre il titolo principale sulla fotografia. Conti in sospeso. Basta chiacchiere. Fate i compiti. Da Francoforte da Bruxelles torna il ritornello rigorista. Avete fatto danni con le parole. Ora i fatti. Chiede Draghi. Mentre Moscovici aspetta i conti in ordine. Vede tanti piccoli mussolini in Europa. I gialloverdi sulla manovra. Intanto litigano. Questo è il riassunto fatto dal manifesto nella politica italiana ed europea. E poi un mese dalla tragedia del Ponte Morandi. Conte a Genova ancora a mani vuote. sul sole 24 ore. Chiaramente largo spazio al caso Consob e al scontro con la BCE. Andiamo a vedere il titolo. BCE e Unione Europea. Ora sui conti dell'Italia servono fatti verso la manovra. Draghi. Danni dalle parole del governo sui vincoli dell'Unione Europea. Aspettiamo la manovra. Moscovici. Roma è un problema nella zona euro. Il bilancio sia credibile. Il governo lavora ai tagli ma la correzione di spesa si ferma a 4-5 miliardi. E poi come detto il caso Consob nel taglio alto. Nava si dimette dopo 5 mesi. L'autority dunque resta senza presidenza. Nessuna incompatibilità è una questione politica. Lascio nell'interesse dell'Italia. Fonti della maggioranza è stato un successo di Lega e 5 Stelle. A centropagina l'Ilva. Siderurgia. Referendum sull'accordo occupazionale all'Ilva di Taranto. Il sì a Mittal. Vince con il 94%. Su avvenire adesso. Andiamo sul quotidiano cattolico. In apertura. Roma sotto esame. Manovra e non solo. Bruxelles critica la linea economica e parla anche di piccoli Mussolini. Di Maio e Salvini insorgono. Moscovici. voi siete un problema. Riferito all'Italia. Draghi fatti. Danni inaccettabili. Nava costretto a lasciare la Consob. Questo è un po' il sunto fatto da avvenire. Andiamo a vedere poi la fotonotizia. Le Acri. Un paese frammentato a più velocità. Le 5 Italia della disuguaglianza. sul messaggero ora. Il titolo di apertura. Governo. Il richiamo di Draghi. Il presidente Bici e le parole hanno fatto danni. Tassi saliti per famiglie e imprese. Aspettiamo i fatti. Moscovici. L'Italia è un problema. Ed evoca i piccoli Mussolini. Salvini. Si sciacqui la bocca. Riferendosi a Moscovici. E poi l'editoriale di Giulio Sapelli. Il commissario Unione Europea. La sbandata di Bruxelles a colpi di fantasmi. Nel centropagina. Il ricordo del crollo del ponte Morandi. Genova. Il decreto beffa sul ponte. Niente commissario. Slittano i lavori. Solo fondi agli sfollati. Scontro 5 stelle carroccio. Sulla nomina. E poi altra notizia. Badante e stuprata davanti al Viminale. Roma. Sicurezza flop. La denuncia di una donna italiana rapinata e abusata da un nordafricano. Il giallo del video. Andiamo sul tempo. Restando ai giornali romani. Un altro giudice indaga su Salvini. È il titolo di apertura. Assedio oppure la Corte dei Conti. Un fascicolo sul caso della nave Diciotti. Contestato al ministro il danno erariale. Per non averla fatta attraccare subito anche la denuncia dei 42 profughi. Uno stupro sotto il Viminale. Andiamo a vedere poi il mattino di Napoli. Il titolo di apertura. Governo. L'affondo di Draghi. Sulle parole del numero 1 della BCE. Sulla strappo con l'Unione Europea. Ancora le dimissioni del Presidente della Consob. Strappo del Presidente. Sono sgradito alla politica. Così ha giustificato le sue dimissioni. Poi Mastella. Assolto 15 volte su 15. È stato un inferno. L'intervista. Ho rischiato 100 anni di carcere. La giustizia se vuole migliorare deve cambiare. Così Clemente Mastella. E poi Igor e quei giochi della morte sul web. La tragedia. Ragazzo trovato impiccato. Sequestrati. I siti con i filmati. Con questo gioco davvero stupido di provocare una sfissia controllata. Una specie di sballo senza droghe. che però chiaramente è un gioco pericoloso con la morte. Andiamo a vedere poi Libero. Il titolo di apertura. Reddito di cittadinanza a carico dell'Inps. Rubano soldi ai pensionati per darli ai cari fannulloni. Di Maio risolve le crisi aziendali da Timma e Ilva con i quattrini dell'ente di Previdenza. E adesso per mantenere le promesse elettorali. Bussa ancora da Boeri. Chi pagherà le rendite ai nonni? Si chiede Libero. E poi una notizia che riguarda la prima pagina, la copertina di Time. The new phase of Europe. E il titolo sulla foto con un ghigno sorridente di Salvini. L'America esalta Salvini. L'Europa attacca l'Italia. Ma per Time Matteo farà male all'Unione Europea. Andiamo ancora avanti sulla verità. Il grande scontro in Europa. La Francia ci dichiara guerra. È la lettura che fa il quotidiano di Belpietro. Moscovisì, socialista fallito. Insulta l'Italia. Ci fa la morale su fascismo e conti. Proprio mentre Parigi sfora il 3% e pensa al reddito di cittadinanza. È solo l'antipasto. Il caso Orban mostra che a Bruxelles la democrazia sta diventando un guaio. Intanto Draghi critica il governo. Parole dannose quelle delle settimane precedenti. Movimento 5 Stelle e Carroccio litigano sulle risorse in manovra. E poi il caso Diciotti. I migranti della Diciotti vogliono querelare Salvini per sequestro. Ancora sotto la fotografia un condannato tra gli esperti di Toninelli. Gaetano Intrieri agita il Ministero delle Infrastrutture. Genova via libera al decreto ma non al commissario. Sul secolo d'Italia il titolo principale. Eccolo qui. Il fuoco di Draghi. Abbiamo visto già in precedenza. Perché in primo piano Salvini spinge su quota 100. Sarà addio al Fornero. E poi ancora Moscovisin insulta l'Italia. Presto sarà tutto finito. E ancora Rieccolo, Erbomba, Renzi contro tutti. Ma ha annunciato che ovviamente il 30 settembre a Roma sarà in piazza anche lui. Insieme a tutto il PD ha spianato il terreno per guadagnarsi un applauso facile. Elargendo etichette di Cialtroni e traditori a destra e a manca. Eo Mattiorenzi. Tutto proiettato all'attacco. Andiamo sui giornali nazionali sportivi. Facciamo una carrellata rapida anche sui principali titoli che riguardano lo sport. Sulla Gazzetta dello Sport in apertura. Il Milan. Scaroni. Milan. Con noi torni grande. Il presidente rossonero. In 3-5 anni vogliamo fatturare e vincere come le top d'Europa. Lo scudetto è bellissimo ma il mondo del calcio è la Champions e la Juve su questo insegna. E poi Inter e la voglia di Maurito. Icardi scalpita Parma ed Europa. Spalletti ci pensa. L'argentino subito al lavoro dopo la nazionale. Se domani sarà impiegato part-time c'è Keita. Ancora dalle nazionali al campionato. L'effetto sosta. Capello. Alle big. Può costare caro. Verso la Coppa. Parla Mbappé. Firmerei ora per una finale tra Paris Saint Germain e Juventus. Il caso Plus Valenze. Con il club pronto a ricorso. Il Chievo. Stangata. Mini. Da 15 punti che era la richiesta della Procura federale. Si è arrivato a meno 3 da scontare subito. E poi occhio a Inter, Atalanta, Toro e Roma. Primavera. Nomi, segreti e gioielli del torneo al Via. Andiamo a vedere anche il taglio basso. Qual è la via giusta per l'oro? Il presidente Cairo e Malagò aprono il dibattito del governo e la ricetta di Giorgetti. Boom britannico stile italiano. Due modelli olimpici a confronto. Andiamo sul Corriere dello Sport. Max Factor è il titolo sulla fotografia di Allegri sorridente. Quanto incide Allegri sulle vittorie e perché il suo calcio non convince di Juventini. Tra gli allenatori centenari è quello con la media punti più alta. 2,41 a partita davanti a Conte. La sfida col Sassuolo precede l'inizio della Champions più ultimativa della sua carriera. Nel taglio alto martello Italia. Siamo al volley mondiali dopo il Giappone. Steso anche il Belgio con un secco 3 a 0. A Firenze, Zazzev, Lanza, Giannelli e Anzani su tutti. Nazionale super nel secondo set. E domani c'è l'Argentina di una vecchia conoscenza del volley italiano, cioè Julio Velasco. Andiamo su Tutto Sport. I titoli anzi principali. Andrea Pirlo esclusivo di Bala fai come Ronaldo e poi Iago Falche fiero del mio toro. Nel taglio alto Andrea Agnelli tutto suo padre. I grandi ritatti di Vittorio Feltri e questa è anche la prima pagina di Tutto Sport. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora torniamo alle notizie abruzzesi dalle pagine interne dei quotidiani regionali. In primo piano sul centro le grandi manovre politiche, elezioni regionali. Meloni agli alleati, solo uniti si vince. La leader di Fratelli d'Italia Pescara, ieri qui il pericolo e l'isolamento è ad Alfonso. La sua denuncia mi fa ridere subito al voto. Andiamo nel taglio basso dove troviamo il PD di Sabatino. Serve ritrovare serenità e un'indiscrezione sul foglio vorrebbe Berlachioma candidato della coalizione di centrodestra. Continuiamo con la politica. Andiamo a vedere il messaggero. Anche qui in primo piano il centrodestra in movimento. La Meloni alla Lega, soltanto uniti riusciremo a vincere. La leader di Fratelli d'Italia parla a Pescara. Le urne entro la fine dell'anno. Berlachioma candidato è presto per fare nomi. Prima il programma. Poi ancora nel taglio alto il PD di Sabatino che vuole ristrutturare il Partito Democratico. Niente insediamento degli organismi alla reggenza del partito. Attualmente dopo le dimissioni del segretario Rapino. Andiamo a vedere anche la pagina che riguarda la politica sulla città. Prima di andare a vedere il servizio che riguarda la visita di ieri della Meloni in Abruzzo. Pretendo il voto entro la fine dell'anno. Il titolo che fa la città con la leader di Fratelli d'Italia, ospite ieri a Pescara dell'evento promosso dal suo partito in vista delle regionali. Andiamo a vedere il servizio e poi continueremo a parlare di politica leggendo i quotidiani abruzzesi. Vediamo. Mattinata pescarese per il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ha incontrato al Museo Colonna gli amministratori locali del partito per tracciare le linee guida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La strategia resta sempre quella di un centrodestra unito. Il centrodestra qui può vincere. Noi possiamo finalmente mandare a casa la sinistra che sta attaccata alla poltrona come un geco sul muro d'estate, che non vuole mandare gli abruzzesi a votare. D'Alfonso ci ha messo cinque mesi a dimettersi. C'è una regione bloccata ostaggio del PD perché siccome sanno che perdono male le elezioni chiaramente vogliono tentare di mantenere il potere finché riescono. Centrodestra può vincere, centrodestra può dare a questa regione un governo capace di fare le cose, capace di costruire e non di tenere tutto fermo. Quindi non avrebbe senso che si andasse in ordine sparso. Considererei il fatto di andare in ordine sparso un favore al Movimento 5 Stelle, un patto di desistenza col Movimento 5 Stelle e quindi segnerebbe l'accordo tra Lega e 5 Stelle, ma un po' al di là anche del governo nazionale. Allorevole, secondo lei tocca alla Lega il candidato presidente anche in virtù degli ultimi risultati elettorali? Guardi, secondo me i candidati non toccano mai a un partito. Il candidato è quello più capace di farlo. Il candidato è quello che può vincere. Il candidato è quello che può meglio governare. Se noi partiamo dal partito che lo deve indicare, abbiamo già perso. E sabato prossimo si terrà a Pescara la manifestazione della Lega a cui ha dato il suo sostegno d'intesa con le liste civiche per l'Abruzzo Fabrizio Di Stefano sceso ufficialmente in campo come candidato presidente. I prossimi giorni sapremo quando si andrà al voto. Secondo lei qual è la data probabile? A mio avviso la logica sarebbe la prima possibile, cioè entro i 90 giorni delle dimissioni di D'Alfonso. D'Alfonso si è dimesso il 10 agosto, 90 giorni da quella data. Poi ci sono cavilli legati a quella norma modificata all'ultimo giorno di esistenza del Consiglio regionale. Anche questo la dice lunga su come evidentemente certe cose vogliono essere manipolate. Intanto nel centro-sinistra si aspetta di conoscere il nome del candidato. Il primo è sempre quello del vicepresidente uscente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini che però scioglierà le riserve nelle prossime settimane. Ma nel PD tengono ancora a banco le dimissioni del segretario regionale Marco Rapino finito nel mirino di Antonio Castricone che ha dichiarato come neanche nel momento delle dimissioni Rapino è riuscito a dare la giusta dignità al ruolo che ha ricoperto in questi anni. Un'uscita di scena forzata dice Castricone per di più accompagnata da un ultimo atto di totale asservimento alle solite logiche che lo hanno guidato in questi anni. C'è bisogno di un forte segnale di discontinuità e le sue dimissioni organizzate vanno nella direzione opposta. Tratteggiano, concluso Castricone, ancora una volta un modo di procedere fatto di ridicoli, bizantinismi e sotterfugi. Ancora sulla città, ancora politica e ancora indiscrezioni sui possibili candidati presidente per il centrodestra. Paolo Gatti, sondaggiato per la presidenza dopo aver annunciato il ritiro dalla politica, dà la sua disponibilità come gesto doveroso verso il partito. I nomi in corsa, oltre al sindaco di Chieti di Primio e a Febbo, ieri è spuntato il nome del leghista Bellachioma, poi c'è anche il nome di Fabrizio Di Stefano che avete ascoltato in precedenza. Insomma, situazione tutta in divenire per la candidatura. Al momento l'unica candidatura ufficiale è quella del Movimento 5 Stelle con Sara Marcozzi. Nella pagina successiva, ancora politica, di Sabatino detta subito le sue regole al PD, sospeso l'insediamento dei nuovi organismi di cui non potranno far parte i candidati alle regionali. condivisione, bisogna riunire i coordinamenti provinciali per ascoltare e capire cosa succede nei territori. E poi Andrea Catena, nei momenti difficili serve la massima unità del partito e il coordinatore del PD Abruzzo risponde al comunicato dell'onorevole Castricone che avete ascoltato nel servizio precedente. Torniamo adesso indietro nella pagina Abruzzo della città. I sindaci minacciano di occupare i caselli Caropedaggi, l'annuncio dei primi cittadini in caso di mancate risposte da parte del ministro Toninelli con una manifestazione organizzata per il 19 a Roma. Sul centro, anche qui ritroviamo il caso Caropedaggi, i sindaci pronti a occupare i caselli su A24 e A25. Nuova manifestazione il 19 settembre a Roma per chiedere di abbassare le tariffe e aumentare la sicurezza delle tratte. Intanto Rixi risponde a pezzo pane, daremo i soldi al gestore, 192 milioni a strada dei parchi per la messa in sicurezza e poi anche la CGL, la Cisle e la Will sono pronte a scendere in piazza per dire no al Caropedaggi. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Continua la lotta dei sindaci contro il Caropedaggi dell'autostrada dei parchi A24 ed A25. Dal 3 di gennaio, giorno della prima manifestazione di protesta ad oggi, la schiera dei primi cittadini e degli amministratori abruzzesi e laziali che chiedono a gran voce la calmierazione delle tariffe autostradali sulla tratta Chieti-Roma e su quella Teramo-Roma è arrivata quasi a quota 100. Tutti, il prossimo 19 di settembre, sono pronti a tornare in piazza nella capitale per dire no agli aumenti. L'ultimo, del 1 gennaio 2018, è stato addirittura del 13% e per chiedere al ministro delle infrastrutture Toninelli un intervento energico sulla concessionaria. L'autostrada non è un lusso, è un'infrastruttura fondamentale per collegare due regioni italiane, per collegare soprattutto l'Abruzzo alla capitale. È un'autostrada che non viene utilizzata per fini ludici, ma è un'autostrada che viene quotidianamente utilizzata da lavoratori che hanno necessità di percorrere e che non possono essere vessati quotidianamente così come viene fatto ogni volta che passano il casello. Chiediamo che ci sia una revisione delle tariffe, chiediamo che ci sia soprattutto adesso una revisione, soprattutto una corretta destinazione di ciò che viene incassato dall'autostrada perché ci siano servizi dedicati alle infrastrutture in termini di sicurezza. I nostri paesi, soprattutto quelli dell'entroterra, sono colpiti fortemente da questi ingiustificati aumenti e soprattutto non soltanto dagli aumenti che sono in vigore dal primo gennaio, ma proprio dalla intera tariffa perché la nostra è l'autostrada più cara d'Italia. Una battaglia animata dai principi anche di sicurezza delle autostrade. Come no, assolutamente. Noi sin dalla prima richiesta di accesso agli atti del gennaio abbiamo richiesto anche tutta la documentazione relativa alla manutenzione effettuata nel corso degli ultimi anni sulle autostrade. Altre notizie di carattere regionale sulla pagina brusso del centro. Mal tempo con la nevicata del 2017. In arrivo 48 milioni per risarcire i danni a privati ed aziende li ha stanziati il Consiglio dei Ministri per 119 comuni del vecchio. Risultato importante, ma ne servono 170. Andiamo ancora avanti. Premo la pagina di Pescara. Il nuovo poliambulatorio in apertura di Stretto Asla, lavori sbloccati dopo 20 anni. Il manager Mancini annuncia l'avvio dell'intervento in via Riosparto. A dicembre l'apertura del canale e poi la solidarietà. Il 20 settembre lo show al Circus per una raccolta fondi. Andiamo a vedere l'apertura del stop nei festivi. Raccoglie consensi. Circus per una raccolta fondi. Gabriella. Secondo gli operatori non ci sarà calo degli incassi. In quei giorni la gente Viene solo per passeggiare. Andiamo a vedere le altre notizie. Paga la cocaina oppure ti spariamo. Vendevano droga a credito e poi minacciavano i clienti. Una delle vittime legata a una serie è sotto il tiro di una pistola. Tre rom della famiglia Spinelli, Ferdinando, Sante ed Antonio arrestati dai carabinieri tra le accuse spaccio ed estorsione. Il dramma umano del tossicodipendente indebitato per 60 mila euro è costretto a vendere i gioielli di famiglia. E poi trovata morta in Piemonte la pescarese scomparsa e mistero sulle cause della morte. E poi ancora anche una grana agricola per il giudice del caso Bussi. Si tratta di Camillo Romandini davanti al CSM, sotto procedimento disciplinare. Nella pagina successiva, rischio sismico, la regione lascia via Bovio. Il palazzo, progettato per ospitare civili abitazioni, è risultato non idoneo a resistere ad azioni sismiche di tipo orizzontale. Sul trasloco fissato al 20 settembre spunta l'incognita delle certificazioni riguardanti i nuovi locali di via Catullo. Torniamo sul centro, proseguiamo la lettura delle pagine di Pescara con l'operazione Rancitelli, abbiamo già visto anche in precedenza, legato alla sedia e minacciato con una pistola. Il capitano Di Mauro, la vittima, ha dovuto chiedere un finanziamento, poi ha denunciato tutto. Un progetto da 16 milioni per un superdepuratore per ripulire il mare, via Ibera al potenziamento del sistema fognario, nove vasche di laminazione e collettori per impedire allagamenti in caso di pioggia. Ancora via Ferrari, il nuovo spartitraffico manda in tilt la circolazione dietro alla stazione, proteste dei cittadini per l'intervento realizzato dal Comune e la Lega in via Remogna. Non si passa più, bloccate i lavori. Si torna sullo stupro in centro, ricorso al Tribunale del Riesame, l'indagato chiede di tornare in libertà. Nella pagina successiva, le indagini sulla morte dell'ex sindaco Pace, investì l'ex sindaco, chiesto il giudizio per l'automobilista. Andiamo nella pagina dell'area metropolitana, città Sant'Angelo in festa, premi, sagra, dell'uva e musica. Da oggi al 17 si celebrano Patrono e Giornata del Perdono. Domenica il concerto di Mazzocchetti, lunedì il Saltarello. E poi ancora la politica, Luciani alla Regione, il popolo di Facebook pronto a sostenerlo. Il post messo dal sindaco di Francavilla ha ottenuto buoni risultati, ma Sarchese dei Cinque Stelle accuse il primo cittadino di aver sbagliato i conti. Angelucci, ambizione legittima, è uno dei più votati in Italia. E poi San Giovanni Tatino, la FB Servizi, sì del Tribunale, al concordato preventivo. Andiamo adesso nella pagina di Chieti. L'operazione dei carabinieri in primo piano, soldi falsi nascosti nell'armadio, è stato arrestato. Albanese fermato con un pacco di banconote da 20 euro contraffatte, voleva spenderla nei negozi di Chieti e di Francavilla. Nel taglio basso, cantina sporca, scatta lo stop, scoperte irregolarità nei cartelli dei vasi vinari e scarse igiene, attività sospesa dopo il controllo da parte del NAS. E poi Vasto, condannato a quattro anni per spaccio dal Lazio con oltre un chilo di coca nascosto sotto i sedili dell'auto. Nella pagina della provincia si fa la lampada solare e resta ustionata. Lanciano, quarantenne, riporta danni permanenti al 10% del corpo, ha processo la titolare del centro estetico e l'assicurazione. Ancora, padre prende a pugni le assistenti sociali. Lanciano, durante un incontro protetto con le figlie, l'uomo si scaglia contro le dipendenti sotto gli occhi delle bambine. Andiamo ancora avanti, Fossacesia cambia il PRG per salvare il mare pulito. Modificato il piano regolatore per ampliare il depuratore, l'impianto accoglierà anche i reflui di Torino di Sangro di Giuseppe Antonio, così si sostiene il turismo. Andiamo a vedere le pagine di Chieti sul messaggero. Anche qui in apertura l'operazione dei carabinieri, nasconde in casa un carico di banconote false e viene arrestato. Ben 144 pezzi da 20 euro pronti ad essere spesi. I consigli del colonnello Florimondo Forleo, così i negozianti e i cittadini possono sventare le truffe. Le consigli che trovate nell'articolo. Nel taglio basso il caso Mirò ancora in primo piano, per messi scaduti il WWF dice bloccate il progetto. Ricorso al Tar bisogna annullarli, l'illegittimità è eclatante. Nella pagina successiva, concerti in sordina o crolla tutto a Lanciano, l'allarme, i forti suoni degli spettacoli hanno fatto vibrare case e palazzi di Piazza Pelbiscito e Corso Trento e Trieste. Nella voragine verrà inserito un martinetto idromeccanico per rallentare le crepe e aiutare la tenuta delle fondamenta dopo i lavori di consolidamento che sono stati effettuati proprio nel tratto finale del corso di Lanciano. Andiamo adesso a vedere sul centro le pagine di Teramo. Ripartiamo dall'avvertenza Ipersimpli. L'azienda insiste sulla chiusura a tavolo in regione. Il gruppo SMA pagherà comunque i 53 dipendenti fino alla fine della trattativa. Nuovo incontro fissato per il 20. Noi possiamo andare a vedere anche questo servizio. Un viaggio della speranza, quello dei 53 lavoratori dell'Ipersimpli di Piano Daccio che in mattinata si sono ritrovati nel piazzale del loro supermercato e in autobus sono partiti da Teramo alla volta dell'Aquila. In regione è stato infatti convocato un tavolo tecnico urgente con l'azienda SMA, proprietaria dell'esercizio commerciale, il presidente Vicario Giovanni Lolli, la provincia, il comune di Teramo e i sindacati. L'obiettivo è quello di iniziare una trattativa con la proprietà intenzionata a chiudere il 30 settembre il punto vendita terramano senza garantire gli stessi livelli occupazionali e offrendo al personale che manterrà come unica alternativa il trasferimento in città lontane. La Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo e la consigliera provinciale delegata alle pari opportunità intervengono sulla vicenda e esprimono solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Ipersimpli di Teramo. La vicenda, secondo la CPO, colpisce ancora di più se si pensa che degli attuali 53 dipendenti 39 sono donne ed è facile immaginare quanto difficile o impossibile possa essere, soprattutto per loro, accettare un possibile trasferimento lontano dalla propria famiglia pur di non perdere il lavoro. La Commissione provinciale e la delegata alle pari opportunità sottolinano inoltre che il tessuto economico e sociale di Teramo, capoluogo, già gravamente martoriato, non resisterebbe ad altri licenziamenti e a ulteriore disoccupazione. È auspicabile dunque che le istituzioni regionali, provinciali e comunali si impegnino con tutte le loro forze per far recedere la proprietà da questo proposito e perché tutto ciò non avvenga. Ancora sul quotidiano Il Centro, sempre nelle pagine di Teramo, rapina, arrestati due giovani di 20 anni. Un rositano e un pinetese avevano preso una catena d'oro a un ragazzo dicendogli stai zitto, ti trovi sulla sedia a rotelle. Poi i fondi per il Mazzini, 4 milioni per rinnovare l'ospedale, alcuni reparti saranno oggetto di ristrutturazione con anche la sostituzione dei vecchi ascensori, ne sarà installato uno panoramico. Nella pagina successiva, Atri, anche la ASL è contraria all'ampliamento della discarica Santa Lucia. Parere negativo del servizio di prevenzione che parla di problemi ambientali e igienico-sanitari del sindaco Ferretti. Adesso la regione deve cambiare rotta e il territorio va salvaguardato. Le pagine di Teramo sul messaggero. Andiamo in quella che riguarda la provincia perché si torna sul caso della pittrice Renata Rapposelli. Santoleri, il terriccio non è compatibile e il risultato degli esami su quanto è stato recuperato da Parfanghi e Ruote della 600 di Giuseppe Simone non corrisponderebbe a quello delle rive del fiume Chienti dove è stato trovato il cadavere della pittrice di origine teatina. E poi ancora allarme per il pannello pericolante. Case Ater, comitato, chiama il sindaco a Giulianova. Altri quattro moduli si sono staccati dal tetto e poi sono stati trasportati a terra dai pompieri. Andiamo sulla città per le altre notizie dal Teramano. Ricostruzione delle chiese, sacerdoti ingegneri per fare più in fretta. Il Vescovo Leuzzi ha aperto un ufficio tecnico interno alla diocesi per accelerare le pratiche di 180 chiese. E poi l'avvertenza è per simple, abbiamo già visto, speranze ridotte a zero per la volontà dell'azienda di chiudere. E poi D'Alberto ribadisce i dubbi sul nuovo ospedale. Il sindaco interviene alla giornata d'apertura del congresso nazionale sia ai sissa all'università. Il dissesto, esperti in campo per Castelnuovo e Ponzano. Le frane che hanno colpito il Teramano nell'inverno 2017 al centro della due giorni di studio che si terrà a Campli. E poi l'ampliamento della discarica Santa Lucia, anche la ASL contro l'ampliamento. Mancano le garanzie sulle condizioni di salubrità. Ancora nella pagina della cultura, addio maestro di sogni e parole sulla scomparsa di Ceronetti, vinse il premio Flaiano per l'Elzeviro, ha raccontato l'Italia. E poi Campli tra i borghi più belli d'Italia, domani la consegna della bandiera del club, quaresimale, è un risultato storico il commento del sindaco. Prima di passare alla pagina dello sport, torniamo sul centro per vedere le notizie dall'Aquilano. Progetto case map, bollette arretrate, ora si teme la stangata e la notizia di apertura, l'allarme di De Santis dell'IDV. Il comune non provvede a mandare le fatture dei consumi da due anni e non recupera gli affitti. Nella pagina successiva, Vezzano, indagine della Corte dei Conti, incarica Natalia, finanzieri in comune, acquisiti atti su nomine e compensi del decimo dirigente dell'ex giunta di Pangrazio, fiducia negli organi inquirenti, è stata espressa. E poi ancora sul messaggero, le pagine dell'Aquila, la ricostruzione e installo, il grido d'allarme della CGL, segnalata la riduzione del 20% delle maestranze presenti nei cantieri. C'è inoltre l'incertezza contrattuale dei dipendenti pubblici del settore. Pagina successiva, falso e invalido, il MEF vuole 700 mila euro di risarcimento sulla presunza cecità di un anziano di Montereale. E poi, incarichi e collaborazioni, blitz in comune ad Avezzano, abbiamo già visto, la Guardia di Finanza ha preso documenti che dovrebbero riferirsi all'amministrazione di Pangrazio. L'intervento sarebbe stato richiesto dalla Corte dei Conti, il periodo interessato è quello 2015-2016. Adesso lo sport, andiamo a vedere il Pescara in vista della trasferta di Brescia. Pescara, primo esame a Brescia, Mister Pillon parte in anticipo per il ritiro, Rondinelle da primi tre posti, fare attenzione, ritroviamo Memuschiai rigenerato dopo la nazionale, Campagnaro è confermato. Queste le parole del tecnico che sentiremo tra poco. Poi, il Genio Macin a Rigamonti per la consacrazione, l'ex di turno. Ancora il Pescara sul centro, poi vedremo la notizia che riguarda Gravina. Serie B domani, i Biancazzurri a Brescia. Camacin in alto col Pescara, ma il mio sogno è la Liga e il centrocampista. Quest'anno l'aria è cambiata e il futuro tornerò in Spagna. Scusate, di Spalla la mezzala ha giocato con le Rondinelle per metà stagione nello scorso campionato. Sono forti, però possiamo batterle. Poi le parole di Pillon, nel taglio basso dobbiamo imparare a gestire le gare. A Rigamonti, a viso aperto, bisogna essere più cinici, ma questa squadra ha carattere. Sentiamo Pillon. Essenzialmente non ci sono gerarchie qui, nel senso che chi vedo bene durante la settimana faccio giocare. Nel senso che alle volte si va anche a sensazione, può essere la partita di uno guardando gli avversari, può essere la partita di un altro. Perciò alle volte puoi cambiare giocatore, anche se è stato il migliore in campo, magari la settimana prima, perché ci sono delle esigenze diverse. Perciò dipende se dal scorso tattico, da come vedi il giocatore in questo momento, e poi uno decide. Poi alle volte si indovina, alle volte no. Purtroppo io spero di fare meno cazzate possibili. Cerco di fare il mio, ma cerco di farlo nel miglior modo. Poi sbagliamo tutti, sbaglio io, sbaglio i giocatori, sbagliamo tutti. Perciò alle volte fai le cose per bene, alle volte si può. Però io devo sempre fare con le cose che sono convinto. Cioè io quando faccio la formazione sono convinto di quella formazione e io devo essere convinto di questo. Noi dobbiamo essere ordinati, fare le nostre cose bene in mezzo al campo, perché lì è importante. Lavorare molto bene, soprattutto sulle linee di passaggio, dobbiamo essere molto bravi lì. E poi noi siamo una squadra che non è attendista, siamo una squadra che cerca di giocare a calcio. Io credo che sarà una bella partita, perché tutte e due le squadre giocano a calcio, tutte e due vorranno far gol. Sarà una partita, secondo me, molto vivace da questo punto di vista. L'importante sono gli episodi, farli girare a proprio favore e curare molto i particolari. Io avrei continuato, per dire la verità, sulla scia dei risultati. La sosta è sempre un'incognita. Perché quando tu sei la sosta, cali il livello di tensione, invece noi dobbiamo avere la tensione sempre alta. Il mio compito è cercare di portare la tensione alta in questa settimana. E questo è l'importante. Non sbagliare l'approccio alla partita. Ma il Prezio è una squadra che non molla, che in queste partite ha dato questa sensazione sia a Cremona che in casa con Livorno. E questo è un aspetto molto positivo. Dove migliorare negli ultimi metri, l'ultimo passaggio, la conclusione, perché anche contro Livorno abbiamo avuto tantissime possibilità di chiudere la partita e non l'abbiamo chiusa e alla fine abbiamo rischiato grosso. E gestire meglio le partite. Quindi dobbiamo migliorare sicuramente. Per quanto riguarda la federazione, si vota il 22 di ottobre. Gravina in pole position per la presidenza della FIGC, il numero uno della Lega Pro, che è abruzzese di Sulmona, sarà candidato dei, tra virgolette, ribelli alle elezioni. Gravina, che è stato anche presidente del Castel di Sangro dei Miracoli. Andiamo in Serie C adesso per guardare in casa del Teramo. Teramo, girone duro, ma contro il Sud Tirol nessuna paura. Il capitano Speranza suona la carica. Sto recuperando il lunedì a Bolzano. Ci sarò, oggi si svela la nuova maglia. Ascolteremo tra poco le parole di Speranza. Intanto in Serie D, Bisegna-Vezzano, battiamo il Cesena. Dalla Romagna in arrivo, 600 tifosi, eccellenza che chi appassa al Chieti. Andiamo anche sul messaggero per il Teramo. Anche qui le parole di Speranza. Girone di ferro, finalmente in campo. Telex ironico di congratulazioni al Lega Pro. Dobbiamo partire subito bene perché altrimenti tutto si complica. Squadra a Bolzano da domenica. Completiamo anche questa pagina con il basket. Sharks, buone impressioni, piegato Montegranaro, d'Arcangeli. Si sta vedendo un buon gruppo o fiducia. Il Teramo anche sulla pagina di sport della città. Capitano Speranza, finalmente si riparte. Queste le parole alla vigilia dell'inizio del campionato. Il difensore Biancorossa all'ottava stagione col Teramo. Girone complicato, ma siamo pronti. Sentiamo le parole di Ivan Speranza. Ivan, finalmente si comincia, possiamo dire. Ma a parte i calendari, sei rimasto un po' spaventato dal girone in cui è stato inserito il Teramo. Perché comunque ci sono squadre di buonissimo livello. Sì, un pochettino si poteva sapere il girone. Ed è veramente un girone di ferro. Un girone con tante squadre attrezzate per far bene. Quindi sarà un girone, secondo me, molto livellato. Quindi bisogna fare subito punti per cercare di ingranare al meglio possibile. Si parte con una lunga trasferta contro una squadra solida che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione. Cosa si potrà fare? Sicuramente, come hai detto tu, una squadra solida, consolidata, dove ha cambiato qualcosina, ma ha preso altrettanto giocatori importanti, forti, di categoria. E' stata la semifinalista dei pre-off, quindi stiamo parlando della squadra più forte del giro del nostro. Sulla carta, nel senso di quello che abbiamo visto l'anno scorso. Sicuramente questo è un altro anno, però è una squadra sicuramente consolidata. Quindi non sarà semplice, ma dobbiamo andarci a giocare come abbiamo cercato di fare in tutto questo ritiro. E' tanta attesa e poi quattro gare nei primi 11 giorni di campionato, fisicamente servirà a essere già al top. Sì, non è facile che essere al top subito e soprattutto, come hai detto tu, tutti questi infrasettimanali non è facile. Però ci dobbiamo far trovare pronti assolutamente perché non possiamo sbagliare. Dopo Bolzano, una prima di fuoco qui al Bonolis contro la Salmenettese, di certo un calendario in avvio parecchio complicato. Sì, infatti, subito un'altra squadra, al di là che è un derby per noi, diciamo. Una squadra forte, la Salmenettese. Poi, come ho detto prima, sei partite, quattro trasferte e non è facile sicuramente al avvio di campionato. Però noi dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso pensiamo a Bolzano e cerchiamo di fare il risultato. Rapidamente le altre notizie sul centro perché siamo in chiusura. Direttanti domenica si parte. L'Aquila Grandi Firme punta alla promozione da Cataglia, Francia e Rossoblu padroni del mercato in prima categoria. Gli aquilani di Cappellacci ripartono con grandi ambizioni. Rinviata la gara col Villa Sant'Angelo, debutto in campionato, ci sarà il 23 di settembre. E poi, nella pagina successiva, il basket, all'Ido delle Rose e Sharks sfidano Latina con Busciati e Sherrod. Domani al via il torneo alle 18. Iesi affronta Scafati, poi Roseto contro i Pontini guidati da Gramenzi. Altre notizie. Teate Chieti, domani l'amichevole con Cassino senza staffieri. E poi da Rugby all'Atletica, Morelli e una star. L'Aquilano, il segreto, allenamenti, stile di vita sano e mia moglie Cristina. Concludiamo così la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. L'appuntamento è per domani alle 8 con Mattino 6. Invece il nostro telegiornale torna oggi con le tre edizioni canoniche alle 14, alle 19 e alle 23. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.